Molto probabilmente questa sarà l'ultima delle domeniche perché siamo intorno alla prima quindicina di ottobre, continua ad essere il tempo bello e favorevole, però i bimbi devono andare a scuola, i professori devono tornare a insegnare, le ferie sono finite per conto, insomma credo che molto probabilmente presto un po' il tempo, un po' la mancanza di tempo sarà necessario che si ritorni al lavoro, sposto leggermente di poco per allargare il mare è comunque pieno, la baracchina di Edense, di Antignano, da tutte le parti sono pieni di fruitori, gente che va in mare ma anche gente che sta nei tavolini a frescheggiare all'ombra perché diciamo che ecco qui c'è una leggera brezza, sta arrivando un motoscafo a tutta birra, fra poco sarà nel campo, ora poi girerò sulle petroliere e sulle navi veloce, sta arrivando, salve errori, ecco, poi zoomerò, ripeto, sulle altre navi, ecco fatto, la visualizzazione del campo, ci sono anche delle barche piuttosto interessanti, per esempio questa che in prima c'è un viaggiatore non a remi ma abbraccia un notatore, un ultima zoomata sullo scoglio delle tamerici, che è con me, avvicina ancora la foto, è uno dei miei punti privilegiati, una volta diversi anni fa, nel 1850 avete capito bene, nel 1850 quella zona era una scuola delle tamerici perché in quelle 1850, appunto, i macchiaioni venivano a scegliere e a ripetere e a cercare alcuni punti di maggior bellezza per la pittura della loro pittura. che calma, che calma, che calma, questa brezzettina, faccio una zoomata sul rivollo e poi basta. non so se si riuscirà a vedere qualcosa, non vorrei compromettere tutta la bellezza di questo video sto Grazie.